Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come Cristian Totti lascia tutti senza parole. Il primo genito di Ilari Blasi e dell'ex calciatore della Roma, ha avuto una reazione inaspettata al divorzio dei genitori Ecco che cosa ha fatto il giovane.Incredibile.Francesco Totti Cristian Totti sconvolge tutti. Arriva l'inaspettata reazione dopo l'annuncio della separazione di mamma Ilari e papà Francesco I fan sono rimasti a bocca aperta.Cristian Totti fa parlare di sé Nato il 6 novembre 2005, Cristian Totti è il primo genito di Ilari Blasi, la famosa conduttrice dell'Isola dei Famosi, nonché volto noto del piccolo schermo e di Francesco Totti, ex calciatore della Roma e sportivo tra i più amati d'Italia e del mondo Cristian Totti.I figli della, ormai ex, coppia più discussa del mondo artistico italiano, sono sempre stati tutelati dalla famiglia e hanno mantenuto un profilo piuttosto basso Anche se sono eredi di due vipponi, tra i più conosciuti d'Italia, soprattutto Cristian ha fatto parlare poco di sé, almeno fino ad ora Lui, che sta seguendo le orme del padre e spera in futuro di diventare un calciatore famoso proprio come Francesco, ha spiazzato però tutti Dopo il divorzio clamoroso dei genitori, spunta l'inattesa reazione che lascia il fan senza parole Avete visto che cosa ha combinato il figlio di Francesco Totti? Da non crederci Il figlio di Totti e Blasi sconvolge i social.Christian Totti lascia tutti senza parole Dopo l'annuncio del divorzio dei suoi genitori, ha stupito la sua reazione Che cosa ha combinato il figlio di una delle ormai ex coppie più famose d'Italia? Semplicemente nulla, ha continuato a vivere la sua vita come se nulla fosse successo Cristian e Francesco Totti.Sembra che il caos mediatico che ha travolto mamma Larry e papà Francesco, non lo abbia sfiorato minimamente, almeno all'apparenza Il giovane continua la sua vita da adolescente lasciandosi scivolare, e per fortuna, aggiungiamo, commenti e critiche, allontanandosi così dal tornado social che ha invaso la sua vita e che si è abbattuto sulla sua famiglia Lui, che ha un profilo social non privato con zero post pubblicati, ha caricato però delle storie in evidenza nelle quali fino a una settimana fa, giorno in cui i suoi genitori hanno annunciato con un comunicato stampa la fine del loro matrimonio, era al mare in compagnia della sua fidanzata, una bellissima mora di nome Melissa Dunque Cristian ha continuato a vivere tranquillamente senza lasciarsi coinvolgere in questo putiferio sociale e mediatico che sta afferendo tante persone Al momento, Totti Junior si trova a Zanzibar insieme alla mamma, alle sorella Chanel e Isabelle e alla zia Silvia La conduttrice dell'Isola dei Famosi, dopo il comunicato bomba, ha deciso di fare le valigie volare in un continente lontano, l'Africa, per staccare la spina e dimenticarsi di tutto e tutti Francesco Totti invece continua a rimanere nel silenzio. Nessuna dichiarazione, nessuna foto compromettente, nessuno scatto polemico I due ex coniugi stanno affrontando la situazione in maniera completamente diversa Ilari si mostra quotidianamente su Instagram condividendo con i suoi seguitori i momenti di questa vacanza rinascita in Africa Totti invece ha fatto perdere le tracce di sé. A stupire però è la reazione dei figli Anche Chanel non pubblica contenuti social mentre Christian continua a vivere normalmente come se il divorzio dei famosi genitori non lo avesse sfiorato minimamente Il pubblico è rimasto sorpreso da questa reazione del giovane Che si tratti forse semplicemente di uno scudo per proteggersi dal caos mediatico che ha travolto lui e la sua famiglia Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Ciao